Farebbe sorridere se non ci fosse da piangere la notizia della mancanza dei 4 milioni di euro per la bonifica del centro intermodale, così commenta Maurilio Murru del Movimento 5 Stelle, un'opera attesa da decenni con i primi passi verso la realizzazione dello snodo passeggeri della fine anni 90. Da allora la situazione è rimasta invariata. Siamo certi che quel progetto è quello che oggi serve alla città? Conclude Murru. Nell'isola, secondo i dati rielaborati dall'osservatorio per le piccole e medie imprese di confartigianato Imprese Sardegna, nel 2018 le imprese registrate come attività di ristorazione ambulante sono 156 e sono cresciute del 56% nell'ultimo quinquennio. Lo street food, soprattutto negli ultimi 5 anni, anche in Sardegna è riuscito a conquistare sempre più sostenitori tra produttori e tra i consumatori. Panada, Sculurgiones e Sebada di Nuova Concezione arrivano sui truck food. Il coro filarmonico della Sardegna si è esibito il 29 giugno nel cortile di Palazzo Ducale, grande successo nel concerto lirico composto da 50 elementi per l'evento Sassari, città della cultura, del turismo e della musica. Guest star della serata la pianista Xenia Nikitina e il direttore Gianni Mastino. Tra le opere proposte il Trovatore, il Nabucco e la Forza del Destino di Verdi, Mose di Rossini. Sintino, Jazz e Classica. Il ciclo di seminari per i musicisti sul Golfo dell'Asinara compie 5 anni e per il suo ritorno si regala una novità assoluta, un corso di canto lirico tenuto dal baritono Alfonso Antoniozzi. Sarà proprio stintino opera a segnare il sabato 7 luglio il ritorno della musica nel Borgo dei Pescatori. Gli organizzatori aggiungono così un nuovo pezzo a un puzzle formativo già ampio che comprende la musica d'insieme per Classica e Jazz.